Dopo che ripetiamo i figli di Fittoroporti, naturalmente mancano pochissimi minuti per questo primo memoria del pastore Dattarsio, si sta in una collina mediana, abbiamo il giro di Fittoroporti, che vogliamo decidere questa partenza, a forza e poi si muove la quina, e al suo piano del capitano della prezzi giocale, Rosario Nuno, e sono, diciamo, un asco di partenza, gli attretti, abbiamo qui il capitano della prezzi giocale, e il sito per in gara, con la maggior parte di Roma, siamo quasi pronti? Ci siamo quasi per la partenza, oltre a noi, patente di questo primo memoria dedicato al nostro personale, e con la maggior parte di Fittoroporti, Pasquale e Cassassio, abbiamo l'assessore Andrea Magallussi che fa il paolo, e in questo momento, ecco il capo sposto, pronte del calato, ero pronti, come i fischi, il corpo diviso, la dottretto, metto così, è di evitare, 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 asfalti, andiamo a sferire, pronti, ci siamo, spia! Grazie!